Nuoro, Sardegna. 1 maggio 1904. Promnia secula seculor. Pater, et figlio, et spirito santo. Amen. Ebbe molte disavventure, ma riedificò la parrocchia e la chiesa. Fu buono e santo, ma ad un tratto cambiò, diventò cattivo come il diavolo. Madre, vi dico che sono stato da una malata. Non ci sono malate al vecchio castello. Entrate. Non tutti i malati stanno a letto. Madre, vi giuro che non andrò più in quel luogo. Paolo, io sono una donna ignorante. Ma sono tua madre. Perché l'ho fatto? Non è niente. Lasciatemi solo ancora un momento. Perché? Paolo, fermati. Pensa che devi salvare anche l'anima di quella donna. E che non devi portargli danno in questa vita. Domine, ecco che la relazione mi ha. Grazie a tutti